Salve a tutti, cercheremo questa volta di, stasera, di filmare la fine di una zazzara attraverso elettrocuzione, quindi attraverso una scossa elettrica che le daremo con una specifica racchetta di quelle vendute dai cinesi. Ecco il nostro obiettivo, è una data, ne abbiamo anche un'altra, vediamo se riusciamo a colpire, quindi si.